Marco, Pier, Torra, Stadia, Vale, Martino, Sinteni, San Lazzaro, la seconda volta della squadra di Maniglia Boys per i Nomadi sono presenti, grazie! Allora, questa come sapete è Mac Film La Vita e come sapete questa sempre e per sempre e per Augusto D'Olio! Allora, questa come sapete è Mac Film La Vita Per avermi in solito amore a mio padre, semplice e profondo Grazie agli amici per la loro comprensione, ai giorni felici della mia generazione Grazie a me, a tutti i miei ragazzi Grazie a me, e anche agli abbondanti A questa nebbia, mensa e avvolgente Grazie al tuono, gli occhi ai temporali Alza il caldo, che guarisce tutti i mali Grazie a me, a tutti i miei ragazzi Grazie a me, a tutti i miei ragazzi Attore e spettatore, tra gioia e dolore Grazie a me, a tutti i miei ragazzi Che mi hanno portato, grazie alla voce Che canta i miei pensieri Grazie a me, a tutti i miei ragazzi Grazie a me, a tutti i miei ragazzi Grazie a me, a tutti i miei ragazzi